Senza fondi regionali il futuro del Teatro Marruccino è un futuro molto incerto? Il futuro del Teatro Marruccino, inteso come teatro lirico sicuramente, i fondi regionali garantiscono la realizzazione delle opere che costituiscono il core business di questo teatro. Senza che la Regione ci iscriva in bilancio i fondi da noi destinati, noi non possiamo fare nulla. Qui non parliamo di mancata erogazione, qui parliamo di mancata iscrizione addirittura nel bilancio, quindi ancora prima dell'erogazione c'è la iscrizione. Dobbiamo avere delle indicazioni, noi siamo un ente pubblico, dobbiamo rispettare le regole dell'ente pubblico, le modalità amministrative e gestorie dell'ente pubblico che sono stringenti. Senza iscrizione in bilancio dei fondi a favore del Teatro Marruccino noi non possiamo contrattualizzare. Mi lasci dire però che è singolare che al 24 settembre 2018 il bilancio della Regione Abruzzo non preveda alcuna somma da destinare alle attività del Teatro Marruccino. Io ricordo e ho fiducia in questo che il Presidente D'Alfonso mi scrisse una nota nella quale mi assicurava un ulteriore finanziamento per il bicentenario e ho sempre avuto dal Presidente D'Alfonso una vicinanza nei confronti del teatro. Quella verbale e anche quella materiale negli anni scorsi si è verificata, quest'anno pare siamo rimasti fermi a quella verbale, ho urgenza che si trasformi in quella materiale. In assenza noi dovremo prendere atto e francamente non so cosa dovrei stare a fare qui io, quindi probabilmente sarà necessario anche che io mi dimetta. Non comprendo però perché ci sia questa disattenzione gravissima nei confronti del Teatro Marruccino.